Anche se comunque ci fosse qualcuno che mi vuole vestire o credo che debba sempre rispettare comunque quel che io voglio, cioè nel senso io mi devo sentire comodo, mi devo sentire a mio agio, un mio accessorio inirrinunciabile, guarda sono tutte e due qui, no gli occhiali li uso perché mi piacciono come mi stanno, avendo un viso lungo da cavallo, mi piacciono. Su tutte scamotaglie, poi dici uno si veste piccolo, non è che mi vesto piccolo, mi vesto perché poi io non faccio vedere i miei di te. Le mie mani, stringimi forte, non guardare indietro.